Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Abbiamo visto il video per quanto riguarda il file degli scambi dei difensori, ieri quello dei centrocampisti, oggi andiamo a finire, a chiudere questo tris di video parlando ovviamente degli attaccanti. Come vi ho già anticipato negli scorsi video, per quanto riguarda gli attaccanti ho inserito anche i mezzi voti, perché secondo me quando si parla di valutazioni relative agli attaccanti ci sono delle sfumature maggiori rispetto ai difensori centrocampisti e quindi per questo motivo ho aggiunto anche i mezzi voti in modo da fare un po' più di graduatoria tra un giocatore e l'altro. Detto questo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e se vi va attivate anche le notifiche, in questo modo sarete sempre aggiornati su tutte le novità appunto che escono qui su questo canale. Vi ricordo ragazzi che il file che vedete oggi come quello di ieri, come quello di due giorni fa, per quanto riguarda tutti voi è disponibile gratuitamente in questi video, potete mettere in pausa e guardare i vari nomi come sono stati classificati, mentre invece per quanto riguarda gli abbonati è disponibile per tutti voi tramite download entrando nel nuovo gruppo Telegram, nel nuovo canale Telegram e lì troverete il file. Vi ricordo che il link del gruppo lo trovate nella sezione community, se invece siete abbonati alla piattaforma Viola basta che mi iscriviate in privato appunto sulla piattaforma Viola e vi manderò il link del gruppo Telegram. Detto questo andiamo a cambiare grafica, allora ci mettiamo qua in piccolo, ok, ci mettiamo sotto Joao, benissimo, e andiamo a vedere che cosa ho preparato per quanto riguarda gli attaccanti. Come sempre voto stagione, voto potenziale, ne abbiamo già parlato nei video scorsi. Fascia 1, Immobile, Muriel, Vlaovic, Lautaro, Simeza, Pata, Abraham, Di Bala, Insigne, Jacob Erardi, Joao Pedro. Immobile, sta andando bene? Sì, potenziale 9, può fare ancora meglio. Muriel, voto stagione 6, finora frenato assolutamente dagli infortuni, potenziale 8,5 ragazzi, tanti di voi purtroppo mi hanno scritto dopo aver dato via Muriel in questo periodo. Muriel non andava svenduto, lo abbiamo sempre detto su questo canale, sia io sia voi anche in live, eccetera eccetera, Muriel va aspettato, non era morto, sarebbe tornato prima della pausa, dopo della pausa, insomma sarebbe tornato. Quindi valeva la pena aspettarlo, Muriel è tornato, dopo la pausa secondo me nel giro di 1 o 2 partite lo rivedremo al top della forma. Vlaovic sta facendo bene, non benissimo, ma comunque bene sì, voto 7, potenziale 8,5, per me può fare molto di più, soprattutto sua azione, lasciate stare il discorso del contratto a gennaio. Vlaovic è un top. Secondo me a gennaio non ci sono tante squadre che possono andarselo a comprare dalla Fiorentina. Realisticamente parlando io credo che Vlaovic saluterà, saluterà a fine anno, ma non credo a gennaio la Fiorentina si vada a privare di un giocatore simile. Poi a gennaio può succedere di tutto, però diciamo che in linea di massima non credo che possa andare via a gennaio. Sarebbe interessante, ad esempio, se Vlaovic andasse via a gennaio vedere poi su chi andrebbe la Fiorentina. Su chi andrebbe la Fiorentina? Ce n'è prime punte in Italia, secondo me, che meriterebbero più spazio? Faccio un nome a caso? Scamacca. Certo, passare da Vlaovic a Scamacca è un po', non dico un salto nel buio, ma sicuramente perdi qualche conferma, però vedremo ragazzi, ovviamente è fantamericato per ora, però insomma monitoriamo la situazione Vlaovic. Lautaro Martinez sta facendo bene, voto 8, potenziale 9, può fare ancora di più secondo me. Ossimen sta facendo bene, potenziale 8,5, non metto 9 per il discorso della Coppa d'Africa, discorso fatto in maniera analoga anche per Khalidou Koulibaly. Zappata 7, ma potenziale 8 per me può fare di più. Abram 6,5, benino, ma non benissimo, può fare di più anche lui, 7,5. Di Bala 6, frenato anche lui un po' dagli infortuni, un po' dall'inizio di stagione della Juve, così così, potenziale almeno 7,5. Insigne 7,5, 7,5. Dzeko 9, perché sta overperformando, lo abbiamo detto anche nella live dell'altra sera, potenziale 7,5. Per me il suo potenziale reale sul medio lungo è inferiore alla media goal che sta avendo in questo inizio di campionato. Berardi 7,5, 7,5, Gio Pedro 7,7,5. Fascia 2, Ibro, Morata, Belotti, Caputorevic, Ilicic, Arnautovic, Quagliarella, Barro, Lozano, González, Destro, Simeone, Leao. Come sempre ragazzi vale il discorso che più che pensare alla fascia in cui ho messo i giocatori, pensiamo al voto stagione, ma soprattutto al potenziale dei giocatori. Se noi facciamo scambi dopo sette giornate di Serie A, è importante quello che ci hanno fatto vedere fino ad oggi, verissimo, ma soprattutto è importante quello che pensiamo possano dare dalla giornata 8 alla giornata 38. Se facessimo questo discorso a marzo il discorso ovviamente cambierebbe perché a marzo quello che ci hanno fatto vedere dovrebbe più o meno corrispondere a quello che avranno fatto vedere a fine stagione. Discorso diverso quando siamo ancora ad ottobre. Ibra, inutile spiegare il motivo, infortunio, 6-7,5, Morata, Idem, 6-7,5, Belotti non l'avevo mai visto, 5-7, Caputo 6-7, può fare meglio, Rebic 7-7, Ilicic 5-5, 6-5, Arnautovic 6-5, 7, Quagliarella 6-7, se sbloccato penso possa continuare, Barro 7-7, Lozano 6-5, 6-5, Nico González può fare leggermente meglio, 6-6,5, destro 8-6,5 perché per me sta overperformando e non credo che resterà questo destro per tutto l'anno, un po' come ha fatto l'anno scorso. Simeone 7-6,5 perché secondo me difficilmente il Verona segnerà così tanto per tutto l'anno e soprattutto Simeone mi aspetto che faccia altri gol ma non tantissimi, io lo spero perché ce l'ho in un fantacalcio ma qualche dubbio lo ho. E su Leao sta andando molto bene, 7,5, non dico che non possa reggere così ma qualche calo secondo me ci sarà per cui metto potenziale 7. Fascia 3, Shomurdov, Mertens, Ken, Boga, Politano, Scamacca, De Lofeu, Raspadori, Giru, Pedro, Beto, Mancuso, Caicedo, Pavoletti, Correa e Simi. Shomurdov, 5,5-6, non mi aspetto chissà che cosa da Shomurdov ma almeno che quando entri faccia qualche gol in più quello sì. Mertens, 5,6, per me da gennaio in poi soprattutto sarà importante per il Napoli con l'assenza di Ossimè, Ken, 6,6, Boga, 6,5, Politano, 6,6, Scamacca, 5, non l'abbiamo mai visto potenziale 7 perché secondo me se gioca è uno che i suoi gol li farà, De Lofeu, 6,6, Raspadori, 5,5-6, discorso analogo fatto per Scamacca, Giru, 5,5-6, io onestamente mi aspetto qualcosina in più da Giru ma non così tanto in più, quindi comunque come potenziale resto basso. Pedro, 6,6, per me sul medio-lungo periodo Zaccanni al ritorno dell'Infortunio giocherà al suo posto. Beto, ovviamente, voto stagione 6 perché ha fatto comunque un gol, potenziale 10. È ovvio ragazzi, no? Cioè, se comunque immobile abbiamo dato 9, Beto ha un potenziale infinito. Avrei dovuto mettere infinito, però da 1 a 10, ovviamente ragazzi, Beto 10. Mancuso, 5,6, per me può fare leggermente meglio. Caicedo, idem, 5,6, non l'abbiamo ancora visto, come non abbiamo visto praticamente Pavoletti, 5,6. Correa, 6,6 ragazzi, Correa farà sempre qualche partita dove fa la partita del secolo, dove sembra un fenomeno, quindi aspettatevi dei piccoli exploit a Correa da qua a fine anno, ma poi tanti momenti di buio. Correa, voto stagione 6, potenziale 6. E chiudiamo con Simi che non sarà mai un fenomeno, però mi aspetto di più, almeno che sia titolare fisso in questa Salernitana. Ragazzi, questi erano gli attaccanti. Ovviamente non li ho messi tutti, ho messo i più rappresentativi. Se avete qualche nome in particolare che non vedete in lista, chiedetemelo qua sotto nei commenti, cercherò di rispondere a tutti. Io vi saluto, vi ringrazio. Ricordo nuovamente agli abbonati che questo file è già disponibile nel nuovo canale Telegram, di cui trovate il link nella sezione, nel posto, nella community, la trovate lì. Grazie mille. Domani ci prendiamo una piccola pausa per quanto riguarda il fantacalcio. Vi porto un altro video parlando però di FIFA. Vi faccio vedere la squadra che ho fatto in queste prime due settimane di FIFA. Così mi dite anche la vostra. Sarà anche l'occasione di vedere un po' qualche giocatore che non gioca nel nostro campionato. Fatemi sapere poi se vi interessa magari, ovviamente non con la frequenza del fantacalcio, ma magari una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, se vi piace, se vi interessa, così che vi possa portare anche un video su FIFA dove magari vi faccio vedere la squadra che sto facendo, come si sta andando a evolvere, su quale giocatore ho deciso di andare a puntare, perché, eccetera, eccetera. Insomma, io tratterò FIFA non come un gamer, perché non lo sono, ma tratterò FIFA come tratto il fantacalcio. Quindi in maniera analitica, in maniera abbastanza razionale, cercherò di fare delle analisi sul perché mi sono mosso in certe direzioni. Insomma, fatemi sapere se anche questo vi può interessare oppure no. Ragazzi, io vi saluto, vi dico che sto già organizzando un'altra live simile a quella che abbiamo fatto l'ultima volta. Sicuramente arriverà prima dell'inizio della prossima giornata, quindi mentre poi venerdì e sabato prossimo ci saranno live dedicate all'ottavo turno di Serie A, prossima settimana, un po' dopo il weekend, ci sarà un'altra live dedicata alle classifiche, alle tier list. È una live che è piaciuta, quindi qualcosa ci andremo a inventare, forse ci saranno anche degli ospiti. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie mille, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!